Siamo qua perché abbiamo la mallettia della ciclistide calabrese, quindi abbiamo onorato con la nostra presenza qua il Giro d'Italia 2021. L'augurio è quello di poterlo portare in Calabria nel futuro e con questa speranza auguriamo a voi un grande giro e un abbraccio. Sono le mascotte del Giro che ci onorano. Grazie, grazie di cuore di quello che fanno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.